Ritornare ai giovani con maggiore qualificazione Don Bosco ha elaborato il suo stile di vita, la sua pedagogia e la sua spiritualità, stando in mezzo ai giovani. La missione salesiana è predilezione per i giovani che orienta verso la consacrazione. Chi vive il carisma salesiano non diserta il campo giovanile e ha una conoscenza vitale dei giovani. Il suo cuore pulsa là dove ci sono i giovani. Una conoscenza teorica ed esistenziale che permette di scoprire i loro bisogni e di creare una pastorale giovanile adeguata alle necessità dei tempi. La missione salesiana, per essere incisiva, deve confrontarsi con i nodi della cultura di oggi, con le matrici della mentalità e dei comportamenti attuali. Siamo di fronte a sfide veramente grandi, che esigono serietà di analisi, osservazioni critiche, un confronto culturale approfondito, capacità di comprendere l'evolversi della situazione giovanile. La terza prospettiva per una attualizzazione del sistema preventivo è, come diceva Don Bosco, considerare l'educazione un affare di cuore.